Abbiamo sempre detto che il percorso sarà graduale, come sono state graduali le chiusure, graduali saranno le riaperture. Abbiamo voluto vedere quello che sarebbe successo dopo le riaperture graduali dei primi giardini, tenete presente che oltre ai grandi parchi sono ancora chiuse anche quelli con cancello. L'idea è vedere i numeri del contagio, se effettivamente nonostante alcune sbavature, per dire così, nonostante alcune situazioni non ci sono piaciute, alcuni assembramenti un po' troppo numerosi, un pochino troppo robusti vorrei dire, se i numeri appunto come ci auguriamo, come pensiamo, rimangono sotto controllo, gradualmente andremo anche verso le riaperture dei grandi parchi e anche degli altri giardini. Ragazzi, riaprire le cascine di tavola, riaprire l'ex ipodromo, riaprire i galceti in maniera definitiva, nel senso autorizzandolo effettivamente, significa un dispendio di energie nel controllo che è praticamente impossibile da effettuare, considerando che rimane tutto il resto. Quindi significa un'assunzione di responsabilità di tutti noi importanti. È giusto uscire, è giusto andare a giro, è giusto frequentare il centro storico e gli spazi verdi. Guardate, io sono il primo a fare il tifo perché si torni a questa normalità, ma ci sono ancora delle cautele da applicare. Non ci si può fermare in 5 o 6 a sedere un accanto all'altro, non ci si può mettere a chiacchierare troppo a lungo, non si possono non portare le mascherine, eccetera, eccetera. Giusto o sbagliato? Non lo so. Sono queste le regole che ci sono state date. Ecco, i grandi parchi comportano che tutti noi ci assumiamo la responsabilità di rispettare queste regole. Però, ovviamente, se i numeri restano questi, se fortunatamente la situazione resta sotto controllo, è chiaro che nella prossima settimana valuteremo l'inizio di un percorso di riapertura. A livello di tempistica una valutazione sarà fatta a partire dalla prossima settimana? Sì, io mi sono dato, ragazzi, non sono né un virologo e neanche un esperto di statistica, però vado con il buon senso, cerco di andare con il buon senso. Il primo maggio è stato il periodo, le prime riaperture delle camminate, delle passeggiate e quindi siamo sostanzialmente a una settimana dopo e abbiamo visto che i numeri fortunatamente tengono. Ci dicono tutti che gli effetti di una scelta si vedono una decina, 15 giorni dopo. Adesso, diciamo, il 4 maggio, quel fine settimana precedente, il 2-3 maggio, sono stati il periodo in cui siamo ripartiti. Sì, prendiamoci questo lasso di tempo e poi, appunto, se tutto, come speriamo, ci auguriamo e come davvero il nostro auspicio resta sotto controllo, inizieremo ovviamente ad ampliare con grande soddisfazione anche l'apertura degli spazi verdi e non solo, e anche negli orari, penso agli orari dei cimiteri, eccetera, eccetera, per riavvicinarsi il prima possibile a una normalità.